Il Comune di Battipaglia ribadisce la propria contrarietà alla realizzazione di ulteriori siti di lavorazione dei rifiuti e chiede la riduzione del carico già presente. In una nota viene chiarito, l'idea malsana che quando altrove si protesta si possa spostare quelle attività di lavorazione dei rifiuti nel nostro territorio senza neanche coinvolgere il Comune, oltre ad essere scorretta dal punto di vista istituzionale, è frutto di una logica che non ci appartiene. Ed ancora viene ribadito dall'amministrazione francese che un modo di fare che è in palese contrasto con quanto concordato in sede di riunione Francia e giunta regionale, fortemente evoluta dal Comune di Battipaglia, dove si è concordato che nulla deve avvenire sui territori senza il coinvolgimento dei comuni interessati. Infine la presa di posizione forte. Episodi del genere che vedono l'esclusione del Comune di Battipaglia come parte interessata vedranno l'amministrazione impugnare in ogni sede i provvedimenti. Battipaglia sul terreno dei rifiuti ha già dato e non siamo disposti a subire scelte politiche di ente sovracomunale, attenti più a rispettare i loro equilibri politici che ad ascoltare i territori.